bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e c'ho una fretta vigliacca ragazzi devo andare a lavorare devo andare al lavoro fra poco meno di tre quarti ma bimimimimim è arrivato su youtube una sbregata di commenti da parte vostra al video che ho fatto prima sul nuovo codice handle with care che vi ho proposto ovviamente grazie ai miei follower che mi hanno informato e badabam sono lì che mi faccio i fatti miei e mi viene detto notifica xyuder guarda che c'è un altro codice promozionale appena uscito per what the hen cosa dovevo fare ragazzi io non dovevo andare su what the hen e sbrindelarvi giù il codice e dai e dai così mi offendete ragazzi allora ve lo ricordo ancora andiamo a cliccare qua in alto ragazzi dove c'è il nostro livello del profilo del personaggio si apre come sappiamo benissimo il nostro la nostra scheda personaggio ho comprato 300 gemmine le piume della galineala non potevo non comprarle clicchiamo su codice promozionale quel tasto lì verde che avete visto alt e prima di andare a mettervi il codice dan dai ragazzi super like super like per questo video se non lo avete ancora fatto fatemi vedere quanto siete fighi a cliccare quel tasto lì e mi raccomando iscrivetevi al canale se volete sempre rimanere aggiornati su what the hen e su clash royale quindi ragazzi non ci fermiamo non ci fermiamo andiamo nella sezione dedicata codice promozionale prendiamo il telefono e inseriamo gg perk non so cosa fa ragazzi non so cosa fa gg perk 2 andiamo a dargli un bello ok invia codice poi a cassa guardalo qua ragazzi guardalo 50 densi dorata per noi e 50 gemme e 50 gemme beh ragazzi io spero che anche questo codice vi sia piaciuto stato molto sugoso per la vostra continuazione del profilo di what the hen io vi ringrazio tantissimo per avermi guardato super iscrizione mi raccomando e super like per questo video e noi ci vediamo presto ciao ciao